E questa è solo una parte della giornata perché dopo il succo di bacche di gocia arriva il pranzo e dico amore che si mangia per pranzo? Ho preparato nine chili con tofu grigliato condito con succo di soia che poi praticamente che cos'è? Zuppa di fagioli con fagioli fusi condito con succo di fagioli ecco perché poi i vegani si danno le arie